Achille Brigà, l'ex sindaco di Ledro, è rientrato a casa a fine dicembre dopo 70 giorni trascorsi in missione in Tanzania assieme ad una ventina di altri volontari del gruppo missionario Altogarda e Ledro. Un nuovo viaggio nello stato dell'Africa orientale, in cui il gruppo, nato su impulso dei compianti padre Franco Cellana e Luciano Santorum, da quasi 30 anni porta avanti diversi progetti, in particolare sul fronte scolastico e su quello sanitario. L'ultima missione ha proseguito i lavori di costruzione del dormitorio nella scuola femminile a Mibichi Mitali, dove è stato realizzato anche un nuovo pozzo, con una pompa alimentata da un grande impianto solare, che permetterà alla popolazione di avere acqua in abbondanza. A Niakipambo il gruppo ha costruito una falegnameria completa di tutti i macchinari, col desiderio di formare i ragazzi ad un mestiere che possa renderli autosufficienti. Il gruppo missionario sta organizzando una serata, che si terrà probabilmente a fine gennaio all'auditorium di Locca, in cui verranno illustrate le opere realizzate durante l'ultimo viaggio e nel corso degli anni, rese possibili anche grazie ai contributi erogati da privati e società, nonché dalla provincia e dalla regione. Vediamo ora la lunga intervista che ci ha rilasciato Achille Brigà. Questo viaggio per lei è stato l'ottavo in Tanzania, che cosa l'ha spinta ad andare lì la prima volta? Alla prima volta mi ha spinto l'appartenenza al gruppo missionario da tanti anni come collaboratore, però volevo provare un'esperienza dal vivo, per cui ho deciso di provare questa esperienza, anche perché mi avevano chiesto di andarci perché avevano bisogno di un elettricista per un impianto, il primo impianto solare che facevamo in un dispensario di una missione, si chiama Ibuanzi, sempre nella diocesi di Ringa. Perciò sono partito nell'autunno del 2008 e ricordo benissimo che quando sono arrivato a Dar e siamo saliti sul pullman, la cosa che subito ho vissuto è questo mondo completamente diverso. Cioè già da come vestono tutti questi colori, ma soprattutto vedere tutte queste persone che camminano lungo le strade, uno che porta una cosa sulla testa che può essere un secchio d'acqua piuttosto che un pezzo di legno, piuttosto che un sacco di farina e soprattutto nel momento in cui ti addentri e entri nelle loro strade per raggiungere questi villaggi, in queste strade molto strette ma molto dissestate e soprattutto il fatto che ti accorgi che queste capanne non hanno la luce, non hanno niente, sono capanne costruite con la tecnologia di due milioni di anni fa. Perciò entri in un mondo a te completamente sconosciuto. E questo mi ha portato da subito questo senso di stupore perché ho detto questo è un mondo che non conosco e voglio conoscerlo, ma soprattutto anche di meraviglia perché ho detto ma forse questo è un mondo che può darmi qualcosa che invece nel mio mondo non trovo. E soprattutto credo che l'esperienza che ho, e mi porto dentro proprio questa, c'è un mondo che è rimasto legato alla natura, per cui il vivere dal mattino alla sera è un ciclo che è il ciclo naturale della vita, ci si alza quando fa giorno e si va a letto quando diventa buio e durante la giornata non c'è la frenesia di dover arrivare a far questo e far quello ma cercare di portare a casa per esempio la legna per cuocere il cibo, l'acqua per poter far da mangiare, per poter fare un po' di bucato e riguardo a questo mi ricordo anche che quando ho visto le donne che lavavano in un secchio d'acqua estendevano il loro bucato sull'erba, perciò anche questo è stato una cosa completamente nuova, ho detto ma guarda non hanno neanche un pezzo di filo per poter stendere diciamo il loro bucato e queste esperienze una dietro l'altra mi ha portato ad andarci ogni anno per bene, quest'anno è stato, anzi l'anno scorso l'ottava volta, un'esperienza che è durata 70 giorni perché? Perché essendo liberi da impegni sia di lavoro che da ex sindaco mi ha consentito di vivere diciamo questa esperienza più a fondo ma soprattutto di viverla anche più in libertà nel senso che sentivo che non avevo la necessità di tornare, che potevo vivere ogni giorno questi due aspetti importantissimi, uno il vivere la quotidianità fino in fondo perché può essere anche il tuo ultimo giorno, il che non è così scontato, perché loro lo vivono legato all'esperienza che hanno perché logicamente loro se si ammalano non hanno il medico, non hanno il 118, non c'è l'elicottero, non c'è niente, perciò l'esperienza loro è quella di diciamo di vivere ma di morire anche velocemente e questa esperienza la vedi perché vedi queste persone, questi bambini che nascono, che si ammalano, che muoiono anche velocemente, perciò vivi una realtà che normalmente non conosci, non hai mai vissuto, perciò da questa prima esperienza, da questa ultima esperienza mi porto via che il senso vero della vita l'ho trovato lì anche se ho sempre cercato di così, di vivere la mia vita legata dei valori che ci hanno insegnato, però ho sempre vissuto probabilmente legando la mia vita a degli aspetti legati a dei progetti, a delle cose che poi se non raggiungevo mi davano una grande delusione, lì ho visto che la vita invece non è legata a nessun progetto, è legata alla quotidianità e vedo che sono delle persone serene, dir felici serve una persona, una parola un po' forse forte, perché non hanno necessario, perché io credo che l'uomo, così per l'uomo intendo l'umanità, l'uomo e la donna, che hanno bisogno e hanno il diritto di sperimentare cosa significa poter andare a scuola, poter leggere un libro, poter viaggiare, poter essere assistiti quando si è ammalati e questo purtroppo per loro non è ancora possibile e credo che questo è la cosa che più ti fa male, perché dici perché io fondamentalmente sono stato fortunato, loro non lo sono stato quanto me e perciò anche lì ti fai una domanda, io potevo nascere qui, sarei come loro, avrei avuto una vita come loro e perciò mi sarebbero mancate tantissime cose che invece noi nella nostra società per fortuna abbiamo Ti ho chiesto a che ora partono da casa, a che ora partono da casa per venire a scuola? Alcuni partono alle 5, altri partono alle 6, per poter arrivare a scuola alle 7 E a che ora mangiano qui a scuola? Tutti già hanno guardato perché nessuno mangia E tornano a casa senza aver mangiato? Tutti tornano a casa senza aver mangiato perché il governo ha emanato una regola che i bambini devono andare a mangiare a scuola, i genitori devono contribuire per il mangiato ma ovviamente i genitori non contribuiscono a niente e i bambini restano senza mangiare dunque mangiano solo una volta al giorno, la sera quando li tornano a casa e la mattina presto partono senza mangiare Pensate un po' che vita fanno questi bambini? Tante volte è difficile trovare però dei volontari che decidono di mettersi in gioco e di provare un'esperienza di questo tipo perché a volte non si riesce a staccare dal lavoro, perché si ha paura delle malattie o delle guerre e ricordiamo che comunque la Tanzania è uno dei pochi paesi in Africa in cui non c'è guerra civile perché non ci sono interessi su quello Stato? Esatto, non hai detto benissimo, la Tanzania è un paese povero, nel senso che è un paese che non ha delle materie prime ha pochissime materie prime, perciò non ci sono in questo paese guerre legate a interessi economici è un paese che ha avuto l'indipendenza negli anni 60, era una colonia inglese, si respira ancora perché la seconda lingua è l'inglese è un paese che dopo 50 anni purtroppo non ha avuto un progresso, non ha avuto un incremento della ricchezza delle persone è rimasto come era prima della colonizzazione addirittura, si vedono le cappane sono costruite ancora allo stesso modo la gente vive più o meno allo stesso modo, lo Stato sta intervenendo sulla scuola ma ha scarsissime risorse sia per quanto riguarda gli insegnanti che per quanto riguarda il materiale didattico è vero, si fa fatica a trovare dei volontari perché ognuno a me viene in mente il Vangelo quando Gesù ha invitato a cena tante persone ma ognuno ha detto che diceva io devo provare i vuoi, io devo stare con mia moglie e succede la stessa cosa ognuno trova tra virgolette una scusa per non venire chi ha paura dell'aereo chi dice che non può assentarsi così tanto, chi ha paura delle malattie e così però io dico questo, nella vita non possiamo pensare di adagiarsi e pensare che la nostra vita è una vita che si sviluppa solo nella famiglia, nel tuo abito e vivendo la quotidianità io credo che la vita alle volte vada tra virgolette così buttata un po' avanti nel senso provare un'esperienza del genere non costa niente è un paese tranquillo nel quale non si va a rischiare niente noi ormai abbiamo anche, dove andiamo in Tanzania, dove abbiamo la base logistica e ringa abbiamo una casa dove siamo sempre ben accolti abbiamo tra virgolette anche una casa in cui c'è una bella cucina c'è la possibilità di farsi anche una doccia perciò non c'è un rischio se non quello che si prova sempre quando si va lontano perciò è chiaro che uno si può ammalare, si può far male però non siamo in un paese nel quale non c'è tra virgolette la possibilità di essere assistiti se ti rompe una gamba o se ti viene la malaria anzi loro sono super specializzati perciò io invito sempre le persone che hanno la possibilità sia per quanto riguarda il tempo che anche per quanto riguarda la loro capacità lavorativa di fare questa esperienza perché ti cambia la vita la vita riesci a darne un significato più profondo perché io sinceramente quello che trovo e che mi spinge ad andare è questo quando vendo tutti questi bambini e cerco di vedere in loro quando saranno grandi che futuro hanno e cosa stanno vivendo anche adesso perciò se riusciamo a dargli la possibilità di andare a scuola un asilo, un dispensario per le loro mamme quando nascono, quando crescono è una goccia nel mare però questa goccia disseta qualcuno perciò io credo che ne valga la pena anzi io invito veramente le persone che hanno un po' di spirito di avventura perché in fondo è anche un'avventura a mettere in gioco la loro vita e saranno felicissimi di aver fatto questa esperienza grazie a tutti